Barili e bottiglie di birra ammassati a migliaia nei magazzini fuori Parigi a causa del crollo della domanda. A seguito della chiusura di bar e ristoranti in Francia, ordinata dall'esecutivo per arginare la diffusione del Covid-19, il settore della distribuzione di bevande si trova in grande difficoltà e non solo quello. Le scorte di merce in venduta si stanno accumulando i magazzini dove solo il 10% dei dipendenti lavora ancora. Commerci non essenziali sono stati definiti bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e librerie. Non tutti possono permettersi il click and collect e spesso gli aiuti pubblici fino a 10.000 euro mensili non bastano. Novembre è normalmente il secondo mese più produttivo per la mia libreria, spiega questo venditore di Rennes. Quindi per una libreria come questa dove il flusso di casse così scarso è già un disastro. Ma se poi andiamo a toccare anche dicembre che è il mese durante il quale vendo di più, lasciamo perdere. Alcuni dei più grandi nomi della letteratura francese moderna si sono imbarcati giovedì su un battello sulla Senna per chiedere al governo di proteggere il commercio librario che sta soffrendo a causa della pandemia e delle conseguenti misure restrittive. Le librerie in Francia, considerate non essenziali, sono infatti chiuse da 30 ottobre.